la vostra guida settimanale nel mondo della finanza e dell'economia ogni settimana analizzeremo i trend daremo consigli e vi sveleremo segreti che potrebbero cambiare il vostro rapporto con il denaro solo su casa radio money talk la rubrica che rende l'economia e la finanza accessibili a tutti buongiorno a tutti ben trovati qui su casa radio è tutto pronto per una nuova puntata di money talk la rubrica esclusiva dedicata alle ultime notizie dal mondo dell'economia e della finanza sono andrea magnano e anche oggi esploreremo insieme le dinamiche economico finanziaria che influenzano le nostre vite prima di iniziare vorrei ringraziarvi perché ci seguite con attenzione e costanza tutte le settimane da questa settimana introduciamo una novità potete inviarci un messaggio al numero 351 82 74 870 per richiederci degli approfondimenti specifici sui temi che trattiamo vi ricordo che questa rubrica è realizzata dalla redazione di casa radio in partnership con money.it e grazie a questa collaborazione sarà possibile solo per gli ascoltatori di casa radio che ne faranno richiesta di ottenere un abbonamento alle pubblicazioni premium di money.it per ben 30 giorni le principali notizie della settimana che approfondirò con voi oggi sono nessun concorso ma garanzia del posto fisso ecco quali sono le aziende partecipate che assumono attraverso un semplice colloquio di lavoro in italia l'iva è alta ma rispetto al pil vale troppo poco è una doppia anima quella dell'iva l'imposta sul valore aggiunto in italia fornisce un gettito sotto le attese la guerra affonda l'economia di israele arriva il declassamento di moody's il prezzo del caffè potrebbe presto diventare proibitivo clima e guerre rischiano di rendere il caffè un prodotto di lusso oro sotto i 2000 euro occasione di investimento o inizio del crollo ma prima di iniziare il nostro viaggio di oggi linea alla regia money talk bentornati in collegamento con me andrea magnano su casa radio in questa seguitissima rubrica settimanale money talk come promesso iniziamo parlando di posto fisso non sempre per il posto fisso bisogna partecipare ad un concorso pubblico esistono infatti grandi aziende dove si procede con il reclutamento diretto dei candidati che soddisfano i requisiti ricercati tra queste ci sono anche le aziende partecipate dello stato ossia quelle società di cui lo stato tramite il ministero dell'economia e delle finanze e gli enti locali detengono una quota di proprietà e nel caso in cui la quota in mano alla pubblica amministrazione dovesse essere superiore al 50 per cento allora si può parlare anche di azienda controllata oltre che partecipata essendoci la garanzia della partecipazione e in alcuni casi del controllo da parte della pubblica amministrazione si tratta di aziende che prevedono gli stessi vantaggi del pubblico impiego sicurezza del posto stipendio in linea con il mercato oltre a diversi benefit scoprire quali sono le aziende partecipate dello stato e quindi molto importante per coloro che con un posto di lavoro sicuro ma vogliono evitare la fatica di prepararsi per un concorso pubblico senza la garanzia di risultare vincitore qui infatti la procedura di assunzione è simile a quella delle aziende private chi vuole farsi assumere quindi deve inviare il curriculum vite in maniera spontanea o candidarsi per una posizione vacante rispondendo ad un annuncio di lavoro solitamente pubblicato sul sito ufficiale dell'azienda dopo di che l'azienda procede con contattare il candidato e al pari di quanto previsto per le aziende private può essere previsto un colloquio che potrebbe essere preceduto da una prova scritta va detto però che tale modalità di assunzione non vale per tutte le aziende partecipate dallo stato come vedremo di seguito infatti ci sono società dove il concorso è comunque obbligatorio è la legge a fare chiarezza su quando un'azienda partecipata deve assumere tramite concorso e quando invece può liberamente procedere come qualsiasi altra azienda privata di fatto è obbligatorio il concorso pubblico per le sole società totale partecipazione pubblica quindi le partecipate al 100% dallo stato in tal caso come ribadito dal tribunale ordinario di monza in veste di giudice del lavoro con la sentenza 420 del 4 agosto 2015 sono da considerare come nulle tutte le assunzioni effettuate nelle società partecipate laddove non fossero precedute da una procedura selettiva in quanto il rapporto di lavoro andrà considerato come invalido sin dall'origine per capire quali aziende private ma partecipate possono assumere senza concorso quindi bisogna guardare alla quota di partecipazione dello stato ad esempio sono aziende partecipate ma solo parzialmente dallo stato rai radio televisione italiana 99,56 per cento ma comunque nella maggior parte dei casi le assunzioni di personale vengono comunque effettuate tramite pubblica selezione enel 23,59 per cento arexpo 39,28 per cento enab 53,28 per cento leonardo 30,2 per cento st micro elettronics holding and v 50 per cento infrastrutture milano cortina 2020-2026 35 per cento mefop società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensioni 57 per cento soluzioni per il sistema economico sose 88,8 per cento capitolo a parte per cassa deposito e prestiti per la quale lo stato ha una quota di partecipazione dell'82,77 per cento e anche attraverso questa infatti che lo stato esercita una presenza in alcuni grandi gruppi industriali italiani come ad esempio poste italiane 29,26 per cento partecipata dallo stato e 35 per cento di proprietà di cassa depositi e prestiti eni 4,2 per cento di quota diretta più un 25,76 per cento di proprietà di cassa depositi e prestiti telecom italia 9,88 per cento saipem 12,6 per cento terna 29,9 per cento snam 31,4 per cento italgas 26 per cento fincantieri 71,3 per cento ansaldo energia 87,6 per cento nexi 13,6 per cento queste aziende quindi oltre a essere grandi gruppi industriali hanno anche la tutela assicurata della partecipazione statale e quindi rappresentano l'ambiente ideale per costruirsi una carriera dalle stabili prospettive e senza dover per forza prendere parte ad un concorso pubblico e ora come promesso parliamo della situazione dell'iva in italia alta l'aliquota ma poca l'incidenza rispetto al pil è una doppia anima quella dell'iva l'imposta sul valore aggiunto che in italia fornisce un gettito sotto le attese lo segnala uno studio della corte dei conti secondo cui questa imposta ha nel nostro paese un valore troppo basso in rapporto al prodotto interno lordo soprattutto se messo a confronto con il peso che ha nelle grandi economie dell'unione europea l'iva è un'imposta sui consumi applicabile a quasi tutti i beni e servizi si tratta di un'imposta prevista in tutti gli stati dell'unione europea anche se ogni paese membro ha la possibilità di fissare le proprie aliquote come noto l'aliquota ordinaria in italia è del 22 per cento mentre su alcuni beni e servizi vengono applicate aliquote ridotte del 10 per cento e del 5 per cento e un'aliquota minima del 4 per cento l'imposta iva è la seconda per dimensione del gettito nel nostro paese dietro solo a quella sul reddito delle persone fisiche irpef eppure in italia il gettito iva vale appena il 6 per cento del pil dato riferito al 2020 livelli simili si incontrano in spagna 6,3 per cento anche se germania e francia arrivano rispettivamente al 6,5 e al 7 per cento mentre svezia e finlandia entrambe fino al 9,2 per cento il gettito iva in italia ha quindi un basso peso rispetto al pil nonostante l'aliquota ordinaria sia più alta di quella di diversi paesi europei per fare qualche esempio in germania è del 19 per cento in francia del 20 per cento e a malta addirittura del 18 per cento non mancano anche situazioni in cui è superiore a quella italiana come nel caso della grecia che ha un'aliquota ordinaria del 24 per cento e della svezia al 25 per cento in quest'ultimo caso l'alta aliquota può spiegare l'elevata incidenza che ha il gettito dell'imposta sul valore aggiunto sul pil svedese che come anticipato supera il 9 per cento lo stesso non può dirsi dell'austria che a fronte di un'aliquota ordinaria di appena il 20 per cento più altre due aliquote ridotte al 13 e 10 per cento genera un gettito iva che vale il 7,4 per cento del proprio pil quindi un'inferiore aliquota ordinaria rispetto all'italia ma con un maggiore peso sul prodotto interno lordo discorso simile vale per i paesi bassi iva al 21 per cento e incidenza sul pil anche in questo caso del 7,4 per cento mentre un caso per certi versi più atipico di quello italiano è rappresentato dall'irlanda che con un'aliquota del 23 per cento genera un gettito iva equivalente appena al 3,4 per cento del pil in merito al peso che il gettito può avere in rapporto al prodotto interno lordo ricordiamo che diverse operazioni sono esenti da iva per esempio le prestazioni sanitarie o le attività educative culturali ma a questo bisogna anche aggiungere che secondo l'ultimo rapporto della commissione europea sul watt gap ossia sull'evasione dell'iva l'italia il primo paese membro per divario tra incassi attesi e gettito effettivo per dirla altrimenti è lo stato con i più alti livelli di evasione dell'imposta sul valore aggiunto in europa per il 2021 è stato quantificato in 14,6 miliardi di euro l'ammontare di iva sparita in italia una cifra che in unione europea non ha confronti dato che al secondo posto per evasione c'è la francia ferma ad una quota di 9,5 miliardi considerando che per quell'anno il mancato gettito complessivo in europa è stato di circa 61 miliardi di euro l'italia è da ritenersi responsabile di quasi un quarto di tutta l'iva persa a livello europeo una consolazione il privato italiano è stabile ma in calo nel 2020 il mancato gettito iva nazionale era stato quantificato in ben 27,3 miliardi money talk continua money talk e continua il nostro viaggio nel mondo dell'economia e finanza su casa radio e ora parliamo del declassamento di mudis per israele il governatore della banca di israele amir yaron ha dichiarato che l'economia del paese è solida e si riprenderà dall'impatto della guerra ma esortato il governo ad affrontare le questioni sollevate da mudis dopo il declassamento del rating di israele da parte dell'agenzia per ristabilire la fiducia dei mercati dell'agenzia di rating in israele è fondamentale che il governo e knesset intervengano per affrontare le questioni economiche sollevate nel rapporto ha affermato yaron nel primo declassamento mai registrato per israele mudis ha abbassato il rating del paese a a2 5 gradini sopra il grado di investimento da a1 mantenendo l'outlook del credito negativo indicando la possibilità di ulteriori declassamenti mudis ha citato rischi politici e fiscali significativi legati alla guerra aggiungendo che il deficit di bilancio di israele sarà significativamente più grande di quanto previsto prima del conflitto se il declassamento dovesse prolungarsi o portare ulteriori declassamenti i costi di prestito per israele potrebbero aumentare e potrebbero essere necessari i tagli di bilancio e aumenti delle tasse per evitare che il deficit di bilancio diventi incontrollato mudis ha notato che il rapporto debito pil di israele sembrava destinato a raggiungere il 67 per cento entro il 2025 rispetto al 62 per cento nel 2023 nonostante ciò yaron ha sottolineato che in passato il rapporto è stato molto più alto durante periodi di crisi economica per israele senza ritardi nei pagamenti del debito da parte del governo il mese scorso standard and poor ratings ha dichiarato che potrebbe abbassare il rating di credito di israele se la guerra con hamas si estendesse ad altri fronti la settimana scorsa i legislatori hanno dato approvazione iniziale ad una revisione del bilancio dello stato per il 2024 che ha aggiunto decine di miliardi di shekel per finanziare la guerra e compensare gli interessati oltre ad un aumento del deficit di bilancio di quest'anno al 6,6 per cento del pil dal 2,25 per cento il primo ministro benjamin netanyahu ha reagito al declassamento di mudis venerdì affermando che il rating risalirà non appena vinceremo la guerra e vinceremo money talk l'analisi delle più interessanti notizie economico finanziarie della settimana qui a money talk ci porta a parlare del caffè che rischia di diventare un prodotto di lusso i titoli dei giornali dopo la pubblicazione dell'ultimo rapporto dell'international coffee association il 7 febbraio erano quasi apocalittici i prezzi record dei chicchi e la scarsa offerta dovuta al basso rendimento dei raccolti e il nigno e il cambiamento climatico rendono le prospettive attuali un appuntamento fisso sembra orrendo in effetti alcuni prezzi dei futures sul caffè sono aumentati di oltre il 40 per cento negli ultimi mesi d'altra parte mentre i rendimenti nell'africa occidentale sono crollate a causa del mantempo altri produttori come il brasile hanno colmato il rallentamento perché l'andamento meteorologico ha aiutato alcuni paesi dell'asia meridionale ma si prevede che l'asia subirà effetti più negativi nelle prossime due stagioni l'andamento meteorologico ha aiutato alcuni dei paesi meridionali ma si prevede che l'asia subirà effetti negativi per le prossime due stagioni il brasile non deve affrontare la seccità ma piogge più abbondanti e la probabilità di un calo dei volumi raccolti non c'è da stupirsi che i futures del cacao abbiano registrato massimi intraday dei 5874 dollari per tonnellata l'otto febbraio questo aumento è di oltre 1000 dollari superiore rispetto al primo gennaio ed è un aumento di quasi il 40 per cento allo stesso tempo l'ico afferma che la produzione mondiale di caffè è aumentata dello 0,1 per cento a 168,2 milioni di sacchi nell'anno caffè 2022-2023 e si prevede che aumenterà del 5,8 per cento a 178 milioni di sacchi nell'anno caffè 2023-2024 gli scarsi raccolti in alcuni luoghi stanno sicuramente incidendo negativamente sui prezzi del cacao tuttavia l'ico prevede ancora un surplus di un milione di sacchi dopo l'inizio dei raccolti le scorte hanno superato il livello di 26 milioni di sacchi quindi cos'altro sta influenzando i prezzi del caffè una delle conseguenze del conflitto marittimo nel mar rosso è l'interruzione del commercio globale questo include il caffè gli acquisti di fagioli robusta dalla vietnam sono diminuiti a fronte dell'aumento dei costi di spedizione e dei tempi di consegna a causa dell'attacco dei ribelli uti alle navi commerciali gli acquirenti di robusta si stanno spostando verso fornitori brasiliani per garantire spedizioni meno incerte andrea magnano ancora con voi per proseguire questo viaggio nel mondo dell'economia e della finanza con money talk e ora parliamo dell'oro il mercato continua a far riflettere l'attesa di un rinvio dei primi allentamenti della politica monetaria da parte della federal reserve ciò si osserva tanto nel comportamento del mercato obbligazionario quanto in quello valutario anche il mercato delle materie prime inclusa la sezione dei metalli preziosi non fa eccezione merita un'attenzione particolare l'oro che ha recentemente superato al ribasso la significativa soglia tecnica e psicologica dei 2000 dollari alla luce delle politiche monetarie annunciate dalle banche centrali e dell'andamento dei mercati quali aspettative possiamo formulare riguardo l'evoluzione del prezzo dell'oro il recente dato sull'inflazione statunitense pubblicato martedì ha delineato uno scenario preciso per i mercati l'attesa di un rinvio dei primi tagli ai tassi di interesse da parte della federal reserve l'indice dei prezzi al consumo ha registrato un incremento dello 0,3 per cento a gennaio superando le previsioni degli analisti di conseguenza su base annua l'inflazione ha chiuso il 2023 con un valore del 3,1 per cento oltre le aspettative che si attestavano al 2,9 per cento seguendo la pubblicazione del cpi statunitense e consultando il fed watch tool del cme emerge un quadro ancora più definito per la prossima riunione del fomc si registra una marcata inclinazione verso il mantenimento dei tassi di interesse a livello attuale tra i 525 e 550 punti base tale probabilità è cresciuta in seguito alla diffusione dei dati sull'inflazione di martedì è ragionevole interrogarsi sull'impatto che tali evidenze possono avere sul prezzo dei diversi asset presenti sul mercato inizialmente si è osservato un marcato rafforzamento del dollaro come indicato dall'indice dxy che appare in rotta verso il traguardo dei 105 punti parallelamente si registra un incremento dei rendimenti del treasury il quale esercita un effetto negativo sui prezzi dei titoli obbligazionari lo standard enpour 500 sembra intenzionato a chiudere una prima settimana in rosso dopo una lunga sequenza di rialzi passando al mercato delle materie prime va osservato che in generale un rafforzamento del dollaro tende a non favorire tale settore inclusi i metalli preziosi inoltre l'oro considerato una riserva di valore perde attrattiva sul mercato all'aumentare del valore del dollaro poiché il suo costo in termini relativi cresce ma questo comporta anche un aumento del costo opportunità soprattutto perché i rendimenti dei treasury sono in ascesa così il prezzo dell'oro è sceso nuovamente al di sotto della significativa soglia tecnica e psicologica dei 2000 dollari in un contesto caratterizzato da un'intensa attività di vendita sugli oscillatori questo calo ha preso avvio in seguito alla rottura dei precedenti massimi del prezzo del metallo prezioso in un periodo di marcata euforia inizialmente percepito come un modesto ritracciamento il calo si è accentuato quando determinati livelli tecnici come i massimi precedenti non sono stati mantenuti money talk money talk termina qui vi ricordo che potete ascoltare il podcast dei contenuti prodotti attraverso le app di spotify apple podcast google amazon ma soprattutto potete ascoltarci in diretta scaricando l'applicazione casa radio direttamente dagli store dei vostri device smartphone tablet smart home oppure potete ascoltarci direttamente nelle vostre autovetture dai sistemi carplay o android auto da andrea magnano è tutto vi do appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata di money talk e non dimenticate di collegarvi al sito money.it per poter accedere all'area riservata premium e poter ottenere notizie esclusive sui temi dell'economia e della finanza gratuitamente per i primi 30 giorni inserendo come coupon il codice casa italia scritto maiuscolo e tutto attaccato buon proseguimento di giornata con i programmi di casa radio grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti